Acque agitate nel Movimento 5 Stelle di Sondrio, con scambio di invettive tra il consigliere comunale grillino del capoluogo Matteo Barberi e il consigliere regionale Eugenio Casalino, sondriese di origini e milanese d'adozione. A innescare la querella una dichiarazione dei giorni scorsi in cui Barberi si era espresso a favore della proposta del senatore del PD Mauro del Barba di promuovere in concomitanza col referendum regionale d'autonomia del 22 ottobre anche un referendum sull'autonomia della provincia. Un'iniziativa velleitaria l'aveva bollata Casalino. Barberi non ha titolo di esprimersi a nome del Movimento su questioni riguardanti la provincia, parla a titolo personale. Sono allibito, replica l'interessato, innanzitutto dice negando l'ipotesi di un referendum non si fa altro che delegittimare uno strumento cardine dei principi del Movimento 5 Stelle quale quello della consultazione, tra l'altro previsto dallo statuto della provincia. Sì al referendum anche a costo di essere espulso dal Movimento prosegue Barberi che attacca. Casalino, che ho avuto il piacere di vedere in Valtellina ben poche volte, mi ha avvertito che se dovessi procedere nell'esternare pensieri personali verranno messe in atto le procedure per la mia espulsione. Il 42enne consulente informatico eletto quattro anni fa a Palazzo Pretorio come candidato sindaco dei 5 Stelle in un messaggio video postato su Facebook, rincara la dose e aggiunge. Io rendo conto a Grillo e Casaleggio, saranno loro a dovermi dire se sbaglio. Intanto continuerò a parlare della provincia come portavoce del Movimento 5 Stelle di Sondrio. Diffido Barberi dal dire falsità nei confronti miei e del Movimento, risponde in una nota Casalino. La sua opinione personale non rappresenta il Movimento su questioni riguardanti la provincia, concetto che gli ho più volte ribadito in questi anni e che più volte non ha rispettato. Usare il nostro simbolo per esprimersi su questioni provinciali è un illecito che ho il dovere di segnalare. Non l'ho minacciato di espulsione, prosegue Casalino. È una mistificazione per crearsi audience. Tutelerò l'immagine mia e del Movimento da queste sue affermazioni. Quanto alla referendum provinciale, il consigliere regionale, 53 anni, ingegnere elettronico nato e cresciuto a Sondrio, ribadisce la posizione dei 5 Stelle Lombardi. È una presa in giro dei valtellinesi. Non servirebbe a nulla, non avendo alcun fondamento legislativo né costituzionale, a differenza di quello regionale, voluto dai 5 Stelle e votato dal centrodestra.